Non accettano la nostra presenza. Si stanno radunando. Vogliono distruggerci. Percepisco qualcosa. Un'entità antica. Dormiente. L'antico. Uno zerg primordiale presente da prima della creazione dell'unica mente. Vuoi che lo risvegli, vero? Se davvero cerchi il potere di Zerus, avrai bisogno dell'antico. Mia regina, i primordiali si stanno radunando nei paraggi. Ci attaccheranno presto. Vogliono impedirti di parlare con l'antico. Che cosa farai? Quello che i miei nemici temono di più. Da sempre. Hai trovato la tua strada. Non hai più bisogno della mia guida. Non ci rivedremo mai più, Kerrigan. Dunque questo sarebbe l'antico. Per risvegliare questa creatura, dobbiamo nutrirla. C'è parecchia biomassa qui. Vederemo quei Quilgor e manderemo i droni a estrarre carne dalle loro carcasse. Quando il drone avrà ultimato la raccolta, trascinerà la biomassa verso l'antico. Ora parla, Brack! Siete nel mio territorio! Zerg corrotti! Ti moreremo le vostre carni! Attenzione! Una forza di Zerg primordiali volanti si prepara ad assaltare la colonia. Mutalismo è costituito. Pronte per due armate. Distruggeremo i quartieri primordiali. Branchi di Zerg primordiali si stanno radunando. È probabile che attacchino di nuovo. Che ci provino? Lo sciame è a man... Questa mandria di Quilgor è il nostro obiettivo primario. Muoviamoci. Nessuna pietà. Un drone può raccogliere biomassa da questo Quilgor. Il processo è lento e il drone sarà vulnerabile. Dobbiamo proteggerlo durante la raccolta. Parla in fretta. Lo sciame non riposa mai. Nulla potrà ostacolarmi. Dobbiamo recuperare in fretta questa biomassa. No! 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 No, 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 no. No, 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 no. Allora cerca altri Quilgor, Isha. Sì, mia regina. Quilgor localizzati. Dobbiamo muoverci rapidamente se vogliamo la loro biomassa. Abbiamo bisogno di altri minerali. Sputa il rospo. Facciamola finita. Forza, fatti sotto. Non c'è molto tempo. Lì. Parla in fretta. Parla in fretta. Parla in fretta. Forze primordiali in arrivo Il drone deve essere protetto Attenzione Lola potrà ostacolare Sputa a Rosco E io che pensavo che voi primordiali vi sareste rivelati una sfida La tua arroganza è inaccettabile Zerus sarà la tua fine Chi ti ha chiesto niente? Non deve risvegliare l'antico Distruggete la carne Non lasciatele nulla Dobbiamo fermarli Le nostre forze possono intercettare le incursioni Le forze di Brak stanno distruggendo la biomassa Quilgor Abbiamo bisogno di altre nostre forze Sono sotto Questo pianeta è mio Sputa a Rosco Forza, salti su Le nostre forze sono sotto attacco Hai la mia attenzione Il nostro drone è sotto attacco Dovremmo fornirgli una scorta affinché non recupera la biomassa Mutazione completata Mutazione completata Abbiamo bisogno di altri minerari Che ti ha chiesto niente? Non c'è molto tempo Le forze primordiali stanno attaccando la biomassa Quilgor Quilgor Abbiamo bisogno di altri minerari Le forze di Brack hanno distrutto la biomassa Quilgor Il tuo sciame non ha volontà Gli Zerg primordiali calano su di voi Avanziamo Lo sciame affamato Abbiamo bisogno di altri minerari Le forze primordiali stanno attaccando la biomassa Quilgor Ci pare sotto attacco Facciamola finita Abbiamo bisogno di altri minerari Hai la mia attenzione Distruggetela carne Distruggetela tutta Un'altra biomassa Quilgor è stata distrutta Avanziamo Facciamola finita E ora che c'è Lo sciame non riposa mai Nulla potrà ostacolarmi Questo pianeta è mio Genera altri sorveglianti Per l'intruggetela Per l'intruggetela Abbiamo bisogno di altri minerari Abbiamo bisogno di altro gas Hai la mia attenzione No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le forze di Brak stanno distruggendo la biomassa Quilgor. Un drone è sotto attacco da parte delle forze di Brak. Vi sono mancata? Un drone è sotto attacco. Un drone è sotto attacco da parte delle forze di Brak. Facciamo avverto qualcosa di primordiale nei baraggi, ma è piccolo. Pozza di Essenza primordiali, forti sequenze. Raggiungi che assorbi Essenza, aumenterà forza. Biomassa Quilgor sotto attacco. Un drone è sotto attacco da parte delle forze di Brak. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Deve essere questo il potere di Brak. Deve essere questo il potere di cui parlava Zeratull. L'alveare principale è sotto attacco. Le forze sono sotto attacco. Giacimento minerale esaurito. Le forze primordiali stanno attaccando la biomassa Quilgor. Nulla si oppone all'avanzata dello sciame. Questo pianeta è mio. Facciamola finita. Avanziamo. Proseguiamo. Facciamola finita. Forza, fatti sotto. Le forze di Brak hanno distrutto un grosso quantitativo di biomassa. Dobbiamo difendere ciò che resta. Lo sciame è affamato. Giacimento minerario esaurito. Un drone è sotto attacco da parte delle forze di Brak. Proseguiamo. Facciamola finita. Le forze primordiali stanno attaccando la biomassa Quilgor. Rilevato organismo primordiale. Funzione simile ad alveare. Genera primordiali. Consiglio annientamento. Questo è mio. Proseguiamo. Abbiamo quasi finito. Abbiamo ingaggiato il nemico. Facciamola finita. Un'altra biomassa Quilgor è stata distrutta. Non potete fermarci. Non potete fermarci. Sì. Sputa il rospo. L'alveare principale è sotto attacco. Parla in attacco. Facciamola finita. Proseguiamo. Sputa il rospo. Non c'è molto tempo. Facciamola finita. Nessuna pietà. Proseguiamo. Sì? Parla in freccia. Giacimento minerario esaurito. Avanziamo. Facciamola finita. Che ti ha piaciuto di essere? Lo sciame non riposa mai. Facciamola finita, Zerg corrotti. Ti ucciderò io stesso. Difendete la colonia. Sputa il rospo. I tuoi inutili servitori non possono competere con gli Zerg primordiali. Un drone sotto attacco da parte delle forze di Brock. Manchezzerò con le vostre carni. Le nostre forze sono sotto attacco. Vi sono mancata? Sputa il rospo. Questo pianeta. Chi ti ha chiesto niente? Facciamola finita. Lo sciame è... Sì Facciamola finita Sputa addosso Lo sciame non riposa mai Nulla potrà ostacolarmi Non avete ancora vinto Le nostre forze sono sotto attacco Un drone è sotto attacco Da parte delle forze di Brock Non vi libererete facilmente di me Giagimento minerario esaurico Ia ridolno Antico, sono qui per il potere di Zerus Sacrificherò qualsiasi cosa per il mio obiettivo Tu mi aiuterai Il tuo sciame rega il marchio di Amon Lo Pselnaga rinnegato che giunse su Zerus tanto tempo fa Fece degli Zerg un'arma e li porto via con sé Tuttavia, alcuni di noi rimasero nascosti e gli sfuggirono Ci moltiplicammo, restammo puri Se cerchi il nostro potere, dovrai divenire primordiale Dovrai divenire pura